Un piano sanitario extraospedaliero per la gestione dell'incremento già prevedibile degli interventi di soccorso nei mesi più caldi dell'estate nell'isola che, in base alle proiezioni del settore turistico, ospiterà milioni di viaggiatori. Lo annuncia la Reus. Nelle principali località balneari verranno estesi gli orari di disponibilità di alcune postazioni di base gestite dalle associazioni cooperative convenzionate laddove già presenti e ne verranno attivate di nuove. Si chiama Progetto India, quello che verrà calato sulla Sardegna, in considerazione dell'aumento su base regionale del 25% degli interventi, il progetto consentirà il potenziamento dei mesi di soccorso di base a mesi di soccorso avanzati, in grado di compiere tutte le attività previste dalle specifiche professionalità, potendo sempre contare sul medico della centrale operativa del 118 la presenza dell'infermiere in sette località a forte vocazione turistica, Santa Teresa, Arzachena, Santiodoro, Villa Simius, la spiaggia di Chia, Carloforte, la spiaggia di Sarenas, consentirà la rapida presa in carico delle patologie più gravi anche nelle spiagge più lontane dei pronto soccorso ospedalieri. Il mezzo di soccorso avanzato interverrà essenzialmente per le cosiddette patologie come l'arresto cardiaco che necessitano di essere trattate nel minor tempo possibile da personale sanitario appositamente formato e poi l'estensione del servizio delle ambulanze di base soprattutto nei comuni lontani dei centri più grossi e infine l'elisoccorso. Sarà attivabile dalle due centrali operative 118 di Cagliere e Sassari con gli elicotteri delle tre basi di Olbia, Alghero e Cagliari.